Il lavoro multimediale L'Etichetti, storia di un'etichetta, costituito da un e-book e da un'app, vuole avvicinare i fruitori del gioco, prevalentemente ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni, al concetto di consumo e acquisto consapevole, favorendo la comprensione e la decodifica delle etichette alimentari e orientando il consumatore verso un'alimentazione del benessere. L'e-book presenta un indice con le informazioni da ricercare in etichetta che tengono conto dei regolamenti comunitari emanati in proposito e poi c'è un aspetto legato ai giochi, quindi abbiamo dei giochi a difficoltà crescente, quindi dai più semplici ai più complessi, costruisci le etichette uno di quelli più complessi, bisogna memorizzare ciò che è segnato in etichetta, scompare dopo 5 secondi e il giocatore dovrà ricordare e quindi ricostruire l'etichetta dell'olio.